Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale ITV City, in apertura l'emergenza sanitaria con il coprifuoco che a partire da stasera è spostato alla mezzanotte, intanto altre quattro regioni diventano zona bianca. Ancora caos rifiuti a Torre del Greco, soprattutto per quanto riguarda gli ingombranti, falsa riapertura del centro di raccolta in largo annunciazione. Riapre invece il pronto soccorso dell'ospedale Marisca di Torre del Greco, l'associazione fa sapere, continueremo a vigilare. In conclusione la ripartenza del teatro con la rassegna estiva nel teatro del Buon Consiglio. Questo ed altro nei nostri servizi. Coprifuoco a mezzanotte, mentre l'Italia diventa sempre più bianca. Altre quattro regioni sono diventate infatti zona bianca. Dopo Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna riaprono anche le neopromosse Abruzzo, Umbria, Liguria, Veneto, mentre nel resto dei territori in zona gialla il coprifuoco slitta di un'ora a mezzanotte. Nel paese che riparte presto potrebbe cadere l'ultimo divieto, quello di ballare. È previsto martedì prossimo un incontro sulle discoteche. I locali potrebbero ripartire a luglio, ma è quasi certo che sarà necessario avere il Green Pass, soprattutto alla luce dello sprint sulla campagna vaccinale per i giovani. Il piano in queste ore continua a macinare record, 1,2 milioni di dosi in 48 ore, e procede spedito più della nuova variante Delta del Covid, che al momento spaventa invece la Gran Bretagna. Tutto per scongiurare il nuovo diffondersi di mutazioni che possano influire sui numeri dei contagi, che al momento sono in calo e non creano allarme. Nelle ultime 24 ore ci sono state solo 20 ingressi in terapia intensiva, che hanno riguardato in tutto dieci regioni. Valle Daosta, Molise e Basilicata non hanno più pazienti ricoverati in rianimazione e la media nazionale del 9% di occupazione di terapie intensive e reparti di medicina sta scendendo quindi drasticamente. Secondo i dati dell'ultimo bollettino si aggiungono purtroppo altri 51 morti per il virus. I nuovi contagi sono stati 2.275 e il tasso di positività è dell'1,5%. In tutta Italia i malati di Covid sono, al momento, 192 mila. Le cose stanno andando bene, non dobbiamo continuare a preoccuparci di varianti, spiega il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri, ma è necessario continuare a rispettare le regole e tutti quanti dobbiamo sapere che il mese di luglio sarà la svolta completa e assoluta. Avremo superato la metà della popolazione con almeno una dose di vaccino e per settembre ottobre si prevede di raggiungere una protezione di comunità. L'ultimo dossier ancora sul tavolo di tecnici e politici è quello della riapertura delle discoteche, anche se non si sa ancora con certezza come e quando le sale da ballo dovrebbero ripartire il prossimo mese. Ma già martedì prossimo in serata al Ministero della Salute è previsto un incontro con i gestori dei locali sul tema, i cui risultati, come da protocollo, potrebbero essere riportati al Ministro della Salute Roberto Speranza, affinché possa infine valutare i tempi e i metodi più adeguati. Falsa riapertura del centro mobile di ritiro ingombranti di largo annunciazione. Negli scorsi giorni il punto di ritiro era stato temporaneamente chiuso, generando l'indignazione di numerosi cittadini che vedevano così svanire la possibilità di gettare i propri rifiuti ingombranti. A distanza di poche ore dalla chiusura, attraverso i social il consigliere con delega alla NU Luigi Mele faceva sapere che in poche ore il tutto sarebbe stato riabilitato e riattivato. Ad oggi il centro risulta aperto ma con cartelli che ne annunciano la chiusura temporanea. Cartelli lasciati probabilmente dalla scorsa chiusura, accanto ai quali è possibile trovare il numero verde buttol per poter sapere le modalità per conferire i propri ingombranti. Molte tipologie di rifiuti speciali, ad esempio i RAE, vengono ad ora ritirati solo a domicilio e quindi non è più possibile depositarli presso il centro mobile di raccolta. Una situazione di confusione che impedisce al cittadino di capire con quali modalità poter conferire i propri ingombranti. Si aggiungono poi le lamentele legate ad un numero telefoniche di assistenza che spesso non è attivo e i cittadini, che una volta ottenuto un numero identificativo, non vedono effettuato il ritiro a domicilio degli ingombranti. Stallo quindi sul fronte ai rifiuti ingombranti a Torre del Greco, in attesa che l'amministrazione comunale possa far luce per consentire ai cittadini un giusto conferimento. Negli studi di TV City la dottoressa Olga Sesse, rappresentanza dell'associazione Pro Maresca, nei giorni scorsi proprio alle telecamere di TV City, il direttore sanitario aziendale Gaetano Donofrio, ha annunciato la riapertura del pronto soccorso il prossimo 16 giugno. L'associazione plavude a questa riapertura, ma questo è solo l'inizio. Grazie per poter far esprimere una volta a noi dell'associazione la soddisfazione per aver sentito che questa fondamentale presenza del pronto soccorso a Torre ritornerà ad essere. Il popolo vuole l'ospedale con il pronto soccorso, ma con tutte le specialità connesse al pronto soccorso. Per cui io mi auguro che, come ha annunciato il direttore Donofrio, nei prossimi mesi ci saranno le terapie semi-intensive, ci auguriamo anche un paio di terapie intensive, in maniera tale che in un prossimo futuro i 250 posti letto del Maresca possano essere destinati a ciò che veramente serve sul territorio. Chiediamo che siano illuminati tutti quelli che possono operare per restituire alla cittadinanza, ma tutta della fascia costiera, un ospedale efficiente al passo con i tempi. Lei prima parlava di 250 posti letto, ma quali reparti dovrebbero essere attivati? Bisognerebbe che ci fosse una chirurgia, una medicina, una cardiologia e una ortopedia. Queste però dovrebbero essere quelle legate al pronto soccorso. La preghiera dell'associazione, che sia un ospedale di urgenza e emergenza, anche di secondo livello. Smettiamola con questo ospedale di base, servono ospedali veri, di secondo livello. Spendiamo bene i soldini, anche i 6 milioni di euro di cui tanto si parla, ma ancora non sappiamo come saranno spesi. Spendiamoli bene e offriamo alla cittadinanza un servizio di cui oggi possano essere orgogliosi coloro che l'hanno creato, ma di cui un domani la cittadinanza possa dire grazie a quell'amministrazione illuminata che ha riordinato le cose sul nostro territorio. L'associazione naturalmente continuerà a vigilare? Assolutamente sì, perché non sappiamo che il servizio di pronto soccorso che sarà riattivato il 16 giugno prossimo, venturo, sarà attrezzato con tutte le strutture sanitarie a monte del pronto soccorso. De Luca aveva dichiarato nel giorno scorso che erano state stanziate 6 milioni per il restyling e per il lancio dell'ospedale Marisca. Noi chiediamo che questi soldi vengono investiti anche per i vari reparti, non solo per il restyling della struttura fisica dell'ospedale. Preghiamoci di dovere che pensi anche al potenziamento di tutte le altre attività sanitarie. Una cosa che vorrei chiedere è se il nostro ospedale Marisca può rientrare fra la realtà che possono beneficiare dei fondi comunitari del recovery fund. Speriamo di sì, perché così vediamo realizzato di nuovo l'ospedale Marisca come era qualche decennio fa. Il 16 giugno l'associazione Promaresca cosa farà? Sarà al pronto soccorso? Certamente, saremo lì a vigilare per capire un po' la situazione, ciò che faranno, ciò che metteranno, perché per sentito dire c'è mancanza di personale sia specialistico che infermeristico. Me lo lasci dire, sindaco, con un bel sorriso perché lei mi conosce. Non è un fatto delle istituzioni che il pronto soccorso si aprirà, ma il fatto che noi dell'associazione Promaresca sono 11 anni che non abbiamo mai mollato. Quindi diciamo diamo a Cesare quello che è di Cesare. È inutile che oggi ognuno pensa di uscire di un articolo e dice magari grazie a me, si è aperto il pronto soccorso. No, grazie a nessuno. Grazie alle nostre forze. Per come si apre, si apre. Solo grazie all'associazione Promaresca. Questo è quello che voglio dire ai cittadini di Torre del Greco. Perché i meriti politici non si devono prendere nulla, perché non è merito loro. È merito nostra associazione Promaresca. Bisogna fare veramente tanto ancora. Noi saremo sempre a vigilare. Almeno io tutti i giorni vado a vigilare al Maresca, perché ce l'ho nel mio DNA. Dal 26 giugno il teatro riparte a Torre del Greco, con un'importante rassegna che comprenderà le principali compagnie della città. In cosa consiste? Un'iniziativa totalmente privata, nata così quasi per gioco con la compagnia di Donna Peppa e la compagnia di Zazà, capitanata da Salvatore Pinto e su Antonio Laprea. Salvatore Pinto, che ha in gestione il teatro del Buon Consiglio, ha messo a disposizione diciamo lo spazio esterno. Quindi tutto si farà in esterno e in sicurezza. Consiste di un calendario nato per caso, ripeto, per gioco, perché siamo amatoriali e noi, ecco, ci piace giocare a fare il teatro, con svariate compagnie. Inizia Salvatore Pinto, con la sua compagnia, poi ci saremo noi Donna Peppa, poi la compagnia di Gianni Pernice, capitanata da Rosalba Pernice, poi anche il teatro club del Fugino Roma e i ragazzi di Ginoruma, poi ci sarà il Gazebo Rosa, con Rosa Visciano, Simone Pagano, un giovane molto talentuoso in concerto, anche Lina Nappo in concerto, I Bazziarioti e anche post teatro con Silvio Fornacetti. E poi ci sarà anche la danza, una veterana della danza torrese, la signora Alba Bonandi con un unicorno danza. Quindi varie sfaccettature di arte per un pubblico torrese che ha fame. Veramente abbiamo anche noi fame di teatro, perché siamo stati circa un anno e mezzo fermi. Noi, per esempio, come compagnia, siamo troppo bloccati dalla pandemia. La settimana scorsa abbiamo smontato le scene dopo un anno e mezzo dal Don Orione. Quindi abbiamo veramente fame e spero che il pubblico abbia sete di teatro. Come è stato allestire uno spettacolo nuovamente? Non è stato semplice, anche perché abbiamo iniziato che eravamo ancora a zona arancione, e quindi abbiamo fatto quasi una dad teatrale. Un pochino chi in presenza al 50%. E anche molto ansiosi. Molto ansiosi perché, sai, avere la mascherina e recitare non è semplice. In alcuni casi stiamo provando anche all'aperto, però mi sembra che le cose vadano meglio e quindi speriamo in un futuro sempre migliore. Una ripartenza anche per il teatro del Buon Consiglio e per tutta la struttura? Nel 2019 Don Ciro Sorrentino mi ha affidato la gestione del teatro del Buon Consiglio, ho lasciato un po' negli ultimi anni a sé, essendo una bella struttura, però era abbastanza abbandonata. Infatti io a novembre, dicembre 2019 l'ho rimesso a nuovo, mettendo anche delle poltroncine. È diventata una vera e propria sala teatrale, però poi la pandemia ci ha bloccato in tutti i nostri progetti che volevamo realizzare, anche per dare una mano alla mensa dei poveri che Don Ciro possiede all'interno del santuario del Buon Consiglio. Quindi il mio obiettivo era quello di aiutare comunque il santuario, incassando soldi proprio per dargli beneficenza per la mensa dei poveri. Fortunatamente dopo questa pandemia abbiamo la possibilità di fare questa rassegna estiva e quindi tutto quello che riuscirò ad incassare io lo devolverò a loro. Quindi non solo un aiuto per i tanti teatranti, tanti artisti che sono rimasti fermi, ma anche per l'intero settore degli eventi e della beneficenza che è rimasto bloccato. Eh sì, perché comunque insieme a noi amatoriali, anche i professionisti, anche chi faceva questa beneficenza è rimasto bloccato da 14 mesi. Quindi un'occasione per ripartire noi, perché come diceva anche l'amico Antonello abbiamo fame di teatro, perché stare fermi 14 mesi non è stato facile. Per le compagnie amatoriali comunque hanno dei costi da gestire, di gestione, sedi da pagare, affitti vari, quindi diamo una mano a tutti per ripartire. Infatti abbiamo fatto dei prezzi veramente molto modici e poi anche per fare un po' di beneficenza, visto che sono 14 mesi che manco quello si poteva fare più. Grazie per la cortesa attenzione. Per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione chiocciolatvcity.it o al numero di telefono 340 65 61 484. E con questo è veramente tutto, io vi do l'appuntamento a domani con altri servizi.